Signor Testimone, lei dirigeva la stazione terminale dei trasporti. A che distanza era la stazione dal lager? Signora Testimone riconosce l'imputato Bogher? Si registravano tutti i decessi avvenuti nel lager? Signora Testimone, vide nessuno degli imputati qui presenti somministrare percosse? Signora Testimone riconosce l'imputato Bogher? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.